Il Barcellona punta Mohamed Salah. L'attaccante, autore di una tripletta Leeds nel 4-3 con cui il Liverpool ha esordito in Premier League, sarebbe in cima alla lista dei desideri di Ronald Koeman. Secondo il Sunday Express, il neotecnico del Barcellona avrebbe individuato nel calciatore egiziano, l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni di Blaugrana. La Lazio non potrà contare su Luis Felipe per 15 giorni. Il brasiliano quindi non potrà prendere parte alla sfida contro il Cagliari in programma il prossimo 26 settembre e probabilmente salterà anche il match con l'Atalanta in calendario quattro giorni dopo. A costringerla allo stop è stato il brutto fallo di Castos, accaduto nei primi minuti dell'amichevole contro il Firosinone, una violenta entrata sulla caviglia. Gli esami clinici hanno escluso fratture ma il trauma ha causato un importante rigonfiamento. Con questa assenza il reparto difensivo delle Aquile già in grande difficoltà perde un altro elemento. Tare si deve affrettare a trovare un difensore e nelle ultime ore si sta parlando di un possibile ritorno a Formello di Caro, attualmente in prestito alla Salernitana. Daniele Padelli ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter. Farà ancora parte della rosa di Antonio Conte anche per la stagione 2020-2021. A comunicarlo è la stessa società meneghina tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale che recita. Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele Padelli. Il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il club fino al 30 giugno 2021. Il vice Diandanovic è approdato all'Inter nel 2017 e nella scorsa annata ha collezionato sei presenze. Esordio da incorniciare per Alessandro Florenzi con la maglia del Paris Saint-Germain. Purtroppo la soddisfazione personale non coincide con quella di squadra perché il club parigino è stato sconfitto 1-0 dal Marsiglia in casa. Nonostante la prova deludente della squadra di Tuchel l'equipe ha voluto premiare la prova dell'ex esterno della Roma con un 7 in pagella. Florenzi ha giocato 84 minuti e il commento del giornale francese è stato. Per la sua prima partita con l'UPSG il laterale destro italiano ha messo in mostra tutte le sue qualità offensive moltiplicando i cross di qualità.